Mi raccomando, abbonatevi, iscrivetevi al canale, azionate la campanella, date like a questo video e commentatelo, condividetelo, abbonatevi soprattutto e che Dio ce la mandi buona con questo covid. Ciao ciao! Finisco la camminata. Tanto, ormai che ci manca, sono quasi arrivato, anzi sono arrivato e vi lascio. Ho fatto questa spezzone per metterlo all'inizio, ma poi continuerà il video dall'inizio e forse non ne caricherò più. Ciao! Niente, faccio questo video che non so come vendrà perché esco di casa. Dopo tanto tempo, scusate per l'audio, ma sarà quello che sarà. Faccio questo video dopo tanto tempo, dicevo, saranno otto mesi che non esco. perché vado con l'orina a farmi degli analisi del sangue. ormai li dovremmo fare perché io li faccio, che prendo dei medicinali, ogni tre mesi. e ne ho saltati due, con questa storia della quarantena, distanziamento sociale, zona rossa, gialla, arancione, e non ci si capisce più nulla. Allora questo video lo faccio così tanto per farlo, qua me ne vo' con l'orina, e poi farò colazione fuori, come sempre succede. E niente, ci metto due minuti ad arrivare. Ma bisogna dare la precedenza alle macchine, altrimenti, invece di monitorare la mia salute, io non so come vengo, perché mi sto filmando con il vecchio cellulare. Nokia Asha 302, se non mi posso guardare, magari vengo accecato dal sole. Però dicevo, invece di monitorare la mia salute, se mi fisca, se mi testa una macchina, monitoriano il mio decesso. Spero che tutte e tutti voi siate bene. Cosa più importante di dire, mi sono scordato di dirvi, abbonatevi al mio canale, che avrete dei benefici. Ma ve lo dirò in una stazione che metterò all'inizio, come mi raccomando di fare YouTube. Adesso siamo quasi arrivati. Ci sono dei chiari e degli oscuri. Che mi tocca fa? Per creare del contenuto. Comunque statevi accorti. Uscite di casa il meno possibile, con la mascherina, come faccio io. E soprattutto, io non ho il covid, vado a fare dei controlli rutinari per me. Non so mai a che distanza mettere il cellulare. Ecco, non vi faccio vedere le case per una questione di privacy. E credo che non mi sono tolto la mascherina, pur non avendoci nessuno nei paraggi. E YouTube non possa mettere i sottotitoli. Vi lascio, ciao. E, come promesso, vi faccio vedere che adesso faccio collezione. Dopo l'analisi del sangue, che non vi ho fatto vedere che me l'hanno estratto. Il ritorno non lo filmo, dicevo. Non so se si è filmato prima con questo cellulare o dei problemi. Altrimenti vendrebbe un casino come l'andata. Poi parlando con la maschera. Avete visto la mia colazione? Capuccino, pasticcino, acqua minerale. Allora, mi raccomando, abbonatevi al mio canale. Non vi ho fatto vedere quando mi facevano all'estrazione del sangue. Ed è la prossima volta. Ciao dal vostro santeccia. Ciao dal vostro santeccia. Ciao dal vostro santeccia. Grazie. 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 Grazie.